Cammeo presenta una novità irresistibile, semifreddo cammeo allo zabaione. Lo prepari in pochi minuti, del latte, un frullino, un frigo. E semifreddo cammeo è l'ideale, come dessert, a merenda, dopo cena, guarnito con la sua squisita crema allo zabaione. Semifreddo cammeo allo zabaione e in tanti altri gusti, tutti irresistibili. Dalla Cammeo.